Duchamp e gli oggetti, i suoi famosi red made, perché restarono così famosi nella storia dell'arte contemporanea? Perché? Perché ciò che conta è l'idea dell'artista. In realtà Duchamp dava molta importanza a Collage, con Brac, Picasso, l'abbiamo già visti. Tanto è vero che Brac e Picasso a Parigi non esposero nei salù dove esposero i cubisti, perché già loro utilizzavano altri elementi. Duchamp li ammirava, comunque aveva una grande ammirazione per questi artisti qui, per quelle tecniche. Lui fa un'operazione diversa, decontestualizza, come abbiamo già detto nella lezione precedente, l'opera d'arte, e quindi prende l'oggetto e lo presenta come opera d'arte, ma tutto nasce per gioco. Lui dice che mentre stava pulendo una ruota di bicicletta, divenne in mente che quella ruota di bicicletta era così bella nella sua forma, nel momento in cui la luce illuminava la ruota mentre slittava, che era un passatempo e quel passatempo divenne un'opera d'arte. Quindi lui presenta poi vari oggetti, come l'orinatoio, lo scolabottiglia, e li presenta come opera d'arte. E quando Duchamp viene riformato, va negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ha una doppia fortuna. Le sue opere attraggono, incuriosiscono e da questo momento in poi nasce anche quella famosa domanda che cos'è l'opera d'arte e perché nasce questa domanda. Perché con l'operazione di Duchamp, che vuole eliminare il concetto di gusto, il concetto di bello di fronte ad un'opera d'arte, vuole anestetizzare il pubblico. Quindi la sua operazione è completamente diversa da quella degli altri artisti. Quindi siamo in piena avanguardia e Duchamp diventa ironico, gioca con le parole, gioca con l'uso delle alliterazioni. Per esempio la Zoconda gli mette i baffi e poi le famose scritte che si pronunciano «Hé la caldo cool» in francese, proprio si pronunciano così. Ed è questo suono, questo gioco di parole che fa ridere. Quindi doveva anche far ridere. Non doveva portare l'osservatore a dire «Ma quell'opera lì è bello, è brutta?» No, doveva far discutere, doveva far parlare dell'opera in sé. Quindi l'operazione di Duchamp è stata importantissima perché da qui si aprono varie discussioni con i critici sulla questione «Che cos'è l'opera d'arte?» E se pensiamo che i Red May di Duchamp non ce n'è uno autentico perché la sorella e la cognata, mentre andarono a pulire il suo atelier a Parigi, buttarono via quegli oggetti perché dissero «Ma questo sono serobacce!» Quindi buttarono quegli oggetti. Quindi noi nei musei vediamo la riproduzione. E anche qui il concetto di riproduzione seriale che è implicito nel Red May. Per lui la riproduzione seriale è l'oggetto in sé, è opere d'arte. Scatenano un sacco di polemiche fra i critici nei vari incontri, nelle mostre e suscitò grandi interessi. Quindi Duchamp resta e resterà per sempre un grande rivoluzionario, un innovatore. E negli anni 50, verso la fine degli anni 50, un altro movimento così importante, seppur durò pochi anni, è il movimento Fluxus, messo in piedi da George Machunas, di origini asiatiche, ma che lavorò tutta la vita, con tutti i suoi soldi, i suoi risparmi, era ricco, aveva questo grande desiderio di costruire nella sua abitazione, che era un grandissimo palazzo, un museo, un museo dove si doveva fare arte. Perché l'arte, diceva Machunas, non è, dunque, la vita, ciò che la vita è, non è arte. Quindi l'arte è qualcosa che va a trasformare la vita, a dare un significato, un messaggio. Quindi le azioni Fluxus saranno per sempre riconosciute, come un movimento fluttuante di energie che vanno a trasformare quello che è il vivere quotidiano. La normalità, il flusso normale e continuo della vita. Ci rivediamo domani per spiegarvi meglio e farvi vedere le opere Fluxus. Buona giornata!